Un'aula didattica, postazioni dedicate al co-working e allo smart working, dispositivi ultra tecnologici come visori 3D, connessione veloce e materiali sostenibili. Sono le caratteristiche principali della nuova sede di ConfCommercio sulla montagna pistoiese, inaugurata sulla centrale via Marconi a San Marcello. L'occasione della riqualificazione della nostra sede della montagna pistoiese è stato anche il momento nel quale fare un investimento per la comunità. E quindi l'associazione mette a disposizione spazi per co-working, spazi nei quali chi vorrà accedere potrà trovare la wifi gratuita, spazi nei quali partecipare a meeting tramite attrezzature, visori contemporanei con i quali vivere tutte le nuove tecnologie al meglio. Questo è stato realizzato anche grazie ad un sostegno, un contributo della regione toscana. Di solito siamo abituati ormai a parlare della montagna pistoiese come un posto in cui le attività chiudono. In realtà la montagna pistoiese rappresenta non solo per noi ma per tutto il nostro tessuto e per tutto il nostro territorio una grande opportunità di investimento. Uno spazio nuovo che viene messo a disposizione di tutta l'area montana. Una bellissima notizia dal punto di vista dell'amministrazione comunale e dei cittadini di San Marcello perché in questo periodo storico non capita spettissimo di vedere investimenti così cospicui affacciati sulla porta d'ingresso del nostro comune. Grazie a ConfCommercio la montagna viene proiettata in una nuova dimensione, una dimensione assolutamente tecnologica in cui grazie agli spazi di co-working chiunque venga a frequentare la montagna avrà la possibilità di lavorare con delle connessioni ultraveloci utilizzando mezzi tecnologici avanzatissimi. Penso al metaverso, penso ai visori per la realtà aumentata. Grazie a tutti.